Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Intervista il mattino di Stefano Graziano, capolista PD nel collegio proporzionale Senato Avellino Benevento Caserta. Il cronista gli chiede una valutazione a fine campagna elettorale. Lui risponde, credo che gli elettori stiano riflettendo molto in queste ore, d'altrocando c'è una scelta importante da compiere, votare per la speranza o per la paura. Che dire, forse Graziano non sa che gli elettori hanno paura proprio di chi ancora rinvia tutto alla speranza. Grazie a tutti.